Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di Covid perché è stato isolato il primo caso Omicron in Abruzzo, sta bene il 52 N, risultato positivo la nuova variante del SARS-CoV-2 che da indiscrezioni pare avesse le due dosi di vaccino e asintomatico e sta bene. Ora l'attenzione è tutta rivolta all'andamento della mutazione. Le parole agli esperti che hanno sequenziato il virus a Chieti. Siamo nel centro di studi e tecnologie avanzate dell'Università di Chieti con il professor Suppia e qui è il laboratorio dove è stato sequenziato il virus, il caso Omicron che è stato riscontrato su questo 52 N di Chieti. Naturalmente la preoccupazione c'è, a lei la prima cosa che chiediamo è intanto come sta andando avanti il tracciamento, cioè è vero che questa persona ha contratto questo Omicron fuori dall'Abruzzo e quali sono gli sviluppi che adesso ci attendono? È molto probabile che l'abbia contratto fuori perché non avevamo altri casi di Omicron in regione perché noi la stiamo cercando da settimane con molta capillarità, quindi è probabile che l'abbia preso fuori e dopodiché c'è in questo momento poco da preoccuparsi, il paziente sta bene, non sembra che ci siano focolai, abbiamo altri 3 o 4 casi sospetti che stiamo analizzando ma al momento parliamo ancora di casi rari sul territorio. I prossimi passi saranno naturalmente orientati a capire come evolve, come se c'è una mutazione di questo virus? Omicron è sicuramente molto infettiva, però ci sono dei report che dicono che è probabilmente meno aggressiva a livello polmonare, lo potremo sapere quando avremo migliaia di casi, non dimentichiamo che le casistiche per adesso vengono da regioni del mondo a bassa percentuale di vaccinazioni, quindi dovremo vedere come si comporta su un territorio come il nostro che è invece l'86% di vaccinati. Anche per tranquillizzare la popolazione ci sono altri casi sospetti, come si procederà con loro? Li sequenziamo ma parliamo intanto tutti di casi non gravi perché nessuno di questi è ospedalizzato, probabilmente sono tutti asintomatici, sono indipendenti uno dall'altro, del resto è arrivato in tutta Europa, Omicron ce l'aspettavamo ma stiamo controllando la situazione bene, mi preoccupa più quello che sta facendo la Delta in questo momento rispetto a quello che sta facendo Omicron. Le solite le accomandazioni perché c'è un po' di paura per questo Omicron? No, è sempre lo stesso, mascherina a questo punto anche all'aperto, igienizzarsi le mani ogni volta che si rientra a casa, stare attenti, mantenere il distanziamento sociale, quello che abbiamo imparato in due anni, non è che ci sono misure particolari verso l'Omicron piuttosto che verso l'Alfa o la Delta, semplicemente un po' di buon senso in modo da poter passare serenamente il periodo natalizio. Ieri ci sono stati i dati dell'Abruzzo più preoccupanti degli ultimi tempi, parliamo invece di quello che è il contagio, di come sta avanzando. Sì, quella è la Delta che invece è preoccupante, nel senso che i contagi sono aumentati moltissimo, noi adesso siamo oltre il 10% di positivi e questo è il dato veramente allarmante più della Omicron. Passiamo adesso alla cronaca, 5 ordinanze di custodia cautelare di cui tre in carcere, una in provincia di Ravenna e due di sottoposizione all'obbligo di dimora eseguiti all'alba di oggi. Questi principali esiti dell'operazione Master Plimer del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara e dettagli. Cinque ordinanze di custodia cautelare di cui tre in carcere, il sequestro preventivo di un'agenzia di scommesse a Pescara e di tre conti gioco, tre motocicli e un'autovettura. E il bilancio dell'operazione Master Cleaner che da questa mattina all'alba ha visto impegnati 70 carabinieri nelle province di Chieti, Pescara e Ravenna, provvedimenti emessi dal GIP di Pescara de Rensis su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica Andrea Papalia. Le indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pescara si sono portate per circa un anno e hanno consentito di individuare 13 indagati complessivi per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, esercizio abusivo di attività finanziarie a trasferimento fraudolento di valori. Il focus principale è un 41enne, noto alle forze dell'ordine, accusato di aver rimpiegato il denaro provente dallo spaccio degli stupefacenti in attività commerciali solo all'apparenza lecite. In particolare una sala scommessa a Pescara che attraverso puntuali riscontri è risultata tuttora nella disponibilità dell'uomo ma con autorizzazioni intestate a una persona di sua stretta fiducia che figura tra gli indagati che dovrà rispondere di concorso nel reato di trasferimento fraudolento di valori. Abbiamo documentato come sui vari conti gioco facenti capo a questa agenzia di scommesse venissero movimentati mensilmente varie centinaia di migliaia di euro. Quindi ciò serve al pregiudicato di fatto senza un'occupazione fissa serve a dimostrare il possesso di capitali che non potrebbe dimostrare. Riuscire a dimostrare il trasferimento fraudolento di valori in capo agli arrestati è stato il passaggio chiave dell'operazione dato che sempre più persone trovate in possesso di consistenti quantità di denaro esibiscono titoli relativi a vincite di gioco che dimostrerebbero in maniera difficilmente incontrovertibile la provenienza lecita del denaro. Per tale motivo durante le investigazioni sono stati richiesti all'agenzia di scommessa gli elenchi dei conti gioco accesi nella citata sala scommesse. Con vincite fittizie, sì, magari vincite non conseguite dallo stesso ma usate come pezza d'appoggio per giustificare appunto il capitale accumulato. Le persone sottoposte a misure cautelari sono già conosciute alle forze dell'ordine ed una di queste fino ad oggi ha beneficiato del reddito di cittadinanza. La moglie di uno dei principali indagati, attinta anche ella da misura cautelare personale, fino ad oggi ha percepito il reddito di cittadinanza. Cambiamo decisamente argomento, dati allarmanti quelli contenuti nel rapporto stop pesticidi nel patto 2021 di lega ambiente. Molti generi alimentari sono irregolari contenendo molti residui di pesticidi oltre le soglie consentite. Giuseppe Dintino. Un prodotto della terra su tre contiene pesticidi oltre le soglie consentite e quanto emerge dal rapporto di lega ambiente Stop Pesticidi nel Piatto 2021 che mette insieme i dati raccolti lo scorso anno in tutta Italia in collaborazione anche con l'Istituto Zooprofilattico Abruzzese analizzando 36 generi alimentari diversi. I numeri sono in leggero miglioramento ma rimane una fetta consistente di prodotti irregolari. La frutta si conferma la categoria più interessata. Il 50% dei campioni contiene uno o più residui di sostanze potenzialmente pericolose. Percentuale che schizza al di sopra dell'85% se consideriamo la sola uva da tavola. L'Italia si sta distinguendo insieme con altri paesi nell'Europa per la riduzione dei pesticidi. Però dobbiamo fare ancora tanto. È un momento strategico fortemente importante perché da un lato è stata approvata dal Senato la legge sull'agricoltura biologica quindi bisogna accelerare sulla sua promulgazione. Dall'altro lato si sta lavorando sul piano strategico legato alla nuova PAC 2023 che ci mette nella condizione di agganciare quelle stesse indicazioni che la comunità europea ci dà. Dall'altro lato dobbiamo mettere in campo un piano d'azione nazionale che vada in questa direzione. L'Unione Europea infatti chiede agli stati comunitari di riservare all'agricoltura biologica entro il 2030 il 40% dei terreni coltivati. Attualmente in Italia la percentuale si attesta intorno al 18%. Insetticidi e fungicidi aumentano la produzione ma con ripercussioni sull'ambiente contaminando terreni e falde acquifere sterminando gli insetti impollinatori e rappresentando rischi per la salute umana. C'è un rapporto dell'ISPRA che ci dà un dato fortemente allarmante per quanto riguarda le acque superficiali il rischio della contaminazione è al 77%. Poi c'è un altro aspetto da tenere in considerazione che non è solo l'elemento del singolo agente di chimica che interviene ma è anche il multiresiduo che va tenuto in considerazione. Per promuovere l'agricoltura biologica e le eccellenze del territorio Legambiente e Parco della Maiella hanno lanciato l'iniziativa per un Natale biodiverso. Il Parco Nazionale della Maiella ha avviato da un certo periodo un progetto che si chiama Vola Volè che è nato in collaborazione con la Cantina Orsogna utilizzando i lieviti, fermentando appunto utilizzando la fermentazione ottenuta dai lieviti presenti nei frutti, nelle bacche presenti nel territorio del Parco Nazionale della Maiella senza sorfiti. Quindi il Parco ha avviato da tempo un discorso di biodiversità e vuole fare questo progetto per un Natale biodiverso. L'Istituto Zooprofilattico di Teramo in prima linea da mesi nella ricerca contro il Covid traccia un bilancio di fine anno sulle attività svolte. Da sottolineare i 631.000 accertamenti sui tamponi positivi e i 99 progetti di ricerca finanziati con oltre 19 milioni di euro. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. 631 accertamenti volti alla ricerca dell'RNA virale nei tamponi positivi al Covid intensa attività di ricerca sul sequenziamento genomico del virus per lo studio delle varianti investimenti per oltre 5 milioni di euro nel patrimonio dell'ente formati a distanza 6.000 professionisti sanitari un milione di accertamenti diagnostici 99 progetti per un budget complessivo di oltre 19 milioni di euro e il bilancio di fine 2021 dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo un'eccellenza in Italia e nel mondo nel campo della ricerca veterinaria. Le tappe più importanti di questo 2021? Fino a metà anno l'attività diagnostica per il Covid a novembre 2020 abbiamo fatto l'anno scorso 90.000 tamponi solo nel mese di novembre ovviamente dicembre e gennaio e febbraio il clima non era molto diverso quindi fino alla fine del mese di giugno siamo stati impegnati sul Covid sono stati 99 i progetti in atto nel 2021 con una dotazione di 19 milioni di euro di investimenti nel 2021 siamo stati riconosciuti come centro di riferimento per il benessere animale per esempio. La giornata più difficile? La giornata più difficile è stata il 24 dicembre quando abbiamo trovato... il 24 dicembre quindi i giorni che sono susseguiti l'inizio di gennaio quando abbiamo trovato la variante inglese perché è stato un evento eclatante anche quello di suggerire le attività da mettere in atto anche per le autorità locali è stato tutto un lavoro molto molto importante molto difficile Nel corso della conferenza stampa di fine anno il direttore dell'IZS Nicola D'Alterio ha anche presentato il nuovo logo e la nuova identità visiva dell'istituto un piccolo capolavoro grafico immediato e moderno Il nuovo logo è molto semplice direi ma dice quello che siamo l'idea del logo deve essere quella lì quella di descrivere in poche lettere quello che è e noi siamo il ZS Teramo Voltiamo pagina i principali esponenti delle associazioni di categorie e diversi rappresentanti delle istituzioni si sono incontrati per porre quesiti sulla necessità di salvaguardare l'attuale modello balneare italiano Vediamo Uno dei temi fondamentali dell'incontro di questa mattina è quello di salvaguardare il modello balneare italiano Sì, noi riteniamo fondamentale che il modello che è stato costruito in Italia per la balneazione organizzata sia un modello che va tutelato è un patrimonio che l'Italia ha e che tutto il mondo ci invidia non sarebbe corretto noi nei confronti delle 30.000 imprese che hanno gestito in questi anni un settore portandolo all'eccellenza ma neanche per il valore aggiunto che è stato creato sul modello della balneazione italiana cancellarlo da un giorno all'altro non possono arrivare grandi gruppi grandi imprese straniere e rubarci quello che le nostre famiglie in tanti anni hanno costruito Quello che chiedete oggi anche ai referenti politici nazionali e europei? Ho fatto un conto più o meno e girano intorno alle attività balneari quasi 2 milioni di persone se un sindacato difende un'azienda che ha 5 dipendenti 10 dipendenti o 1.000 dipendenti noi siamo 2 milioni di dipendenti a noi chi ci deve difendere? Questo è il punto Noi siamo qui oggi con le istituzioni così come abbiamo fatto in tutto il resto d'Italia dopo aver concluso gli incontri con le forze politiche e istituzionali a livello parlamentare e quindi chiediamo prima di arrivare a una riforma che è necessaria che si possa effettuare una mappatura delle coste italiane questo è l'elemento più importante per capire quanti pesi e quante concessioni ci sono oggi esistenti su tutto l'arco costiero italiano e soprattutto capire quante altre possibilità di concessioni si possono concedere per mantenere in equilibrio due principi uno è quello di aderire a ciò che ci chiede l'Europa e quindi della concorrenza e delle possibilità anche a nuovi imprenditori di poter sviluppare la propria intresa sul demanio e l'altro principio da mantenere in equilibrio è proprio la tutela la salvaguardia dell'attuale modello balneare Casa Artigiani Abruzzo analizza lo stato di salute dell'economia abruzzese in base ai dati di Infocamere e Banca d'Italia nel 2021 l'Abruzzo fa registrare un alto tasso di crescita superiore alla media nazionale in ripresa investimenti, export e vendite aumenta però la richiesta di cassa integrazione vediamo al termine del 2021 Casa Artigiani Abruzzo stila i bilanci dell'economia abruzzese per lanciare nuove proposte di intervento alle istituzioni i dati a disposizione sono quelli di fine settembre inizio ottobre di Infocamere e Movimprese e del sondaggio di Banca Italia su un campione di imprese manifatturiere abruzzesi a fronte della cancellazione di 855 imprese ben 1.356 si sono scritte in Abruzzo i tassi di crescita di Pescara e Chieti superano addirittura la media nazionale mentre Terramo e L'Aquila ottengono un risultato inferiore il dato confortante è l'adesione massiva alla campagna vaccinale che ha determinato l'allentamento delle misure restrittive e la ripresa delle vendite di riflesso si sta assistendo ad un recupero di investimenti e dell'export quest'ultimo addirittura superiore ai livelli pre-pandemia ma è il quadro occupazionale a destare la massima attenzione di casa artigiani se da un lato la ripresa delle attività produttive ha generato una nuova partecipazione al mercato del lavoro dall'altro si assiste ad un ricorso significativo agli strumenti di integrazione salariale e alle misure di sostegno al reddito per quanto riguarda poi il settore delle costruzioni e delle vendite immobiliari questo è caratterizzato da una forte ripresa addirittura superiore a quella del 2019 infine il credito termometro del vero stato di salute delle imprese abruzzesi e questo è il settore maggiormente attenzionato da parte di casa artigiani Abruzzo la domanda di finanziamento si sta riducendo rispetto al 2020 e prima che gli effetti diventino irreversibili per casa artigiani ora più che mai è necessario un sistema bancario territoriale più flessibile il consigliere regionale del partito democratico Dino Pepe ha presentato un'interpellanza per affrontare i problemi del trasporto pubblico in provincia di Teramo vediamo pochi controlli anti covid mentre i sindacati lamentano di non essere considerati da tua e regione Abruzzo il trasporto pubblico del Teramano ha delle criticità secondo il consigliere del partito democratico Dino Pepe il quale ha presentato un'interpellanza al consiglio regionale i lavoratori ma soprattutto gli utenti sono molto delusi dalla gestione del trasporto pubblico locale in maniera particolare in provincia di Teramo i sindacati hanno lamentato la mancanza soprattutto di dialogo con tua e soprattutto con la giunta regionale a questo proposito ho presentato un'interpellanza che mi auguro sarà discussa al prossimo consiglio regionale dove possiamo fare insieme una riflessione sulle criticità del trasporto pubblico locale a cominciare dalla situazione difficile sindacale con i lavoratori alla alta evasione tariffaria alla mancanza di controlli siamo in piena pandemia tanti lamentano sia le sanificazioni sia i controlli per quanto riguarda i green pass una situazione da affrontare con urgenza e ci auguriamo che al prossimo consiglio regionale ci sia questa discussione puntuale con risposte puntuali da parte dalla giunta regionale i dati emersi da un recente studio del Cresme evidenziano un saldo positivo di 36 miliardi di euro nelle casse dello Stato provenienti dai bonus edilizi per questo lancia Abruzzo chiede continuità alla programmazione degli investimenti della misura super bonus 110% oltre ad un sistema che qualifica le imprese che lavorano con i fondi pubblici vediamo Buone notizie per chi intende portare a termine piccoli e grandi interventi di ristrutturazione immobiliare nella propria abitazione infatti ci sarà l'opportunità di accedere a bonus fiscali come il super bonus 110% fino al termine del 2023 Lancia Abruzzo insieme a tutto Lancia Nazionale sta proprio battagliando per questa cosa qui perché battaglia vinta sì ma fino a un certo punto il 2023 dietro l'angolo e sicuramente non possiamo rigenerare e migliorare le abitazioni degli italiani in così poco tempo se noi pensiamo che in Italia ci sono ben 32 milioni di appartamenti privati noi possiamo sicuramente immaginare quanto tempo ci vuole 30-40 anni ed è per questo che lavoriamo fortemente per far sì che questa legge diventi strutturale questi incentivi fiscali prosegue Dintino sono fonte di guadagno per lo Stato secondo un recente dossier redatto dal Cresme di Bellicini nei 23 anni di bonus lo Stato italiano ha guadagnato circa 3 miliardi l'anno mentre nell'ultimo anno con il forte impatto del 110 il ritorno per lo Stato è di circa 4 miliardi quindi capiamo che sono numeri importanti perché perché ogni euro investito in edilizia specialmente quelli di strutturazione si moltiplica in economia per 3,7 significa quasi 4 volte pagare e ritornare con le tasse con il modello F24 con l'IVA eccetera ritornare i soldi al nostro Stato inoltre c'è la grande importanza di far tornare gli operai nei cantieri e quindi mano d'opera attiva e non redditi di cittadinanza notizia di alcuni giorni fa è che il lancio nazionale ha votato all'unanimità e si batterà ai tavoli ministeriali perché questi lavori siano affidati a imprese qualificate soprattutto per la sicurezza dei cittadini noi oggi quando parliamo e quando leggiamo sui giornali che ci sono delle truffe quelle sono fatte da imprese improvvisate che sono nate soltanto per cavalcare quest'onda economica e i lavori non vengono fatti per niente sono cantieri fantasma la Lilt Pescara si è dotata di un nuovo endoscopio per prevenire il melanoma della pelle questo traguardo è stato raggiunto grazie alla grande partecipazione in occasione della 32esima edizione e dello spettacolo La Notte Magica vediamo Lilt è sempre attiva sul territorio e dà una mano a quelle persone che purtroppo sono colpite da queste neoplasie sì è importantissimo in questo periodo perché stiamo vivendo una doppia pandemia la pandemia da covid e la pandemia da legata alle diagnosi tardive cioè la prevenzione consente di fare delle diagnosi precoci e consente di guarire è spesso di guarire con interventi molto limitati più si fanno diagnosi tardive più si allontana la possibilità di una guarigione completa e più si allontana la possibilità di fare piccoli interventi noi in piena epidemia abbiamo lavorato lo stesso utilizzando dei sanificatori che riescono quindi a farci lavorare con tranquillità e in sicurezza e abbiamo continuato a fare prevenzione ecco negli anni comunque il melanoma della pelle si è riuscito a curare anche in maniera diversa per quanto riguarda la malattia localizzata è un interessamento l'infonodale minimo ci si è la possibilità di fare dei trattamenti adiuvanti che sono sia di terapia immunologica sia di terapia target che praticamente portano a guarigione il paziente e anche nella malattia avanzata ci sono dei trattamenti che attualmente guariscono anche il paziente sicuramente l'assessore al comune di Pescara è orgogliosa della solidarietà che questa città ha portato avanti nell'aiutare la Lilt sono fiera sono soddisfatta e sono contenta di aver raggiunto questo obiettivo e quindi oggi c'è stata la consegna di questo strumento la Lilt da parte dell'associazione e devo dire che è stata una notte magica sotto tutti gli aspetti magica perché c'era questa magia questi artisti che si sono espressi sul palco e magica perché alla fine siamo riusciti ad acquistare questo dermatoscopio e quindi a raggiungere un obiettivo fondamentale Siamo così giunti alla pagina dello sport prosegue la preparazione del Pescara in vista della trasferta sul campo del Limolese di domenica prossima alle ore 17.30 che chiuderà il girone di andata per i Biancazzurri ieri non si sono allenati in gruppo Marilungo Galano Zita e Memushai i primi due vanno ancora verso la mancata convocazione e sono in uscita in vista del prossimo mercato il tecnico Gaetano Auteri potrebbe effettuare qualche cambiamento nell'undici base e riproporre il trio di difesa visto il Grosseto e nel secondo tempo con Pistoiese dunque con Ianes Ingrosso e Veroli adesso potrebbe toccare a Cancellotti che punta a tornare tra i titolari facendo rifiatare Zappella Bianbo è ancora favorito su Memushai per il fronte d'attacco Scalpita Rauti in gol contro la Pistoiese che potrebbe soffiare la maglia da titolare a Dursi spera anche l'ex De Marchi che ha giocato in Romagna nella stagione 2018-2019 collezionando 45 presenze e 12 gol tra campionato Coppa e playoff nell'immolese di Gaetano Fontana squalificato Vona al pari del Biancazzurro Rizzo direzione di gara affidata a Rinaldi di Bassano del Grappa intanto nel tardo pomeriggio di oggi alle ore 18.30 all'ex Aurum appuntamento per il brindisi natalizia da parte della società che illustrerà alla stappa anche il progetto Abruzzo senza confini e andiamo in casa Teramo ambiente ancora scosso dopo i provvedimenti di ieri della magistratura che ha sequestrato beni e società ai fratelli Ciaccia neoproprietari del club la squadra ancora una volta cerca di rimanere concentrata sul campo l'attaccante Bernardotto medita riscatto anche la trasferta di domenica contro la Reggiana si presenta sulla carta proibitiva vediamo non è già la prima volta che succede ma quando prendiamo andiamo sotto non riusciamo a reagire tra grande squadra quindi questo lo paghiamo e lo stiamo pagando non riesco a capire il motivo e spero di che la squadra si rifà sul campo perché è l'unico modo dove ne possiamo uscire guarda l'unica cosa positiva che ti posso dire è che nonostante noi abbiamo preso tanti schiaffi poi la settimana dopo abbiamo sempre reagito da grande squadra perché comunque l'abbiamo dimostrato sul campo quindi capace che noi andiamo a regge e andiamo a fare punti questo poi non si sa ma il nostro obiettivo deve essere quello e dobbiamo cercare di dare una svolta soprattutto partendo dalla partita di domenica che comunque sappiamo che è una partita complicata purtroppo oggi il campo dice che sarà un campionato di dofferenza un campionato dove tutti dobbiamo entrare nella mentalità che ci dobbiamo salvare poi il calcio è strano il calcio è capace che vinci due o tre partite di fila e cambia tutto però ad oggi la situazione è questa e quindi tutti dobbiamo mentalizzarsi e capire che sarà un campionato tosto dove dobbiamo ottenere la salvezza il prima possibile cioè c'è poco da fare no guarda io corro e lotto sempre dove vado vado perché sono un tipo di giocatore che non si nasconde oppure non aspetta la palla buona per fare gol certo se arriva lo faccio quindi non è quello però non è neanche il fatto che non mi danno una mano anzi dipende anche dalle partite molte volte per dirti la partita di domenica eravamo in difficoltà tutti quindi automaticamente non riusciamo a fare quello che di solito facciamo perché a Ponte Dera solo non mi ci sentivo ecco questo è siamo al volley in A2 la Secortone ospiterà in un match salvezza il Mondo B domenica alle 16 non alle 18 in A3 la capolista Abba Pineto riceverà alle 18 il Fano per la prima di ritorno in A2 femminile l'Altino domenica alle 17 a Lanciano se la vedrà con Brescia in B2 maschile domani alle 18 l'Alba ospiterà il Civitanova mezz'ora dopo il Paglietta giocherà con l'Avellino in B1 femminile domani la Teatina scenderà sul parquet di Castelbellino in B2 infine pure domani alle 17 al Palo Orfento il Gada per Scara 3 affronterà il Biceglie alle 18 al Palo Roma il Ceteas Montesilvano riceverà il Potenza Picena alle 19 al Palo Elettra in programma Danunziana Bari alle 19 trasferta a Pagliare per la capolista Teramo e questo era il nostro ultimo servizio tutti quelli che avete visto sono disponibili sul nostro canale social Youtube al sito www.tv6.it grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi a Pagliare 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 Grazie a tutti